Per quale motivo hai scelto di intitolare il disco Euforia? L'Euforia nasce da tutte le esperienze fatte e maturate nel corso dei miei quasi 30 anni in giro per il mondo e in Sicilia e da qui l'esplosione di gioia e di felicità che avevo per lanciare e far ascoltare a voi il mio lavoro Ed è stata un'esplosione di gioia a Modena soprattutto perché proprio lì in Emilia hai presentato il tuo primo lavoro Sì esattamente, a Modena per l'esattezza a Casinalbo, al Club La Meridiana c'è stata l'anteprima è stato un successo, veramente sono rimasto molto contento io in primis di come è andata la serata e anche il pubblico ha apprezzato moltissimo e anche da un punto di vista di prenotazioni dell'album su iTunes sta andando abbastanza bene di questo sono molto soddisfatto Ad inizio abbiamo sentito il brano che l'ha stato dedicato interamente a Gela cosa ti ha spinto a scriverlo? Beh, il fatto che sono nato qui e tutto parte da qui di conseguenza per me è un onore parlare della mia città e di farla conoscere non solo a Gela ma anche nel mondo E quando Samuele Momano terrà un concerto a Gela? A Gela sarà fatto ad agosto, prima del ferragosto la location dovrebbe essere l'Emula di Moliontè e poi subito dopo partirò per New York e in novembre in Giappone Con Gela nel cuore? Sempre Grazie Grazie Grazie